19.10 ho lavorato che non è reato con calma che la ripresa va fatta con calma 11 gennaio settimana prossima è tutta bella pianificata che non è reata io devo fare una commissioncina nel quartiere prendo lo scooter quando il prodotto esaltico banalmente cammino ma non perché mi fa bene camminare perché perché non bisogna perdere abitudini anche di farsi una camminata una passeggiata adesso stacca un po' il cervello la tecnologia stereo la coerenza è importante questo è sopra è un video schnauzio un video d'altronde per comunica la tecnologia di Tosa e quindi camminatina alle 7 da buon mediumen italico che non è un mediumen perché le cose semplici le cose apparentemente banali come camminare all'aria aperta maniche corte a gennaio nella capitale parlare dialogare vedere ascoltare vivere lo diamo per scontato non solo non è reato ma non è scontato non è reato ma è da leggeamento da soggetto un po' accoglionato perché quando è scontato non c'è sta niente quando è scontato che questo si ferma quando io passo se le strisce oggi c'è sta niente e allora ciao grandi seguiamo tutti bene sono amici benzinari a benzinare va sotto ufficio vedremo tra noi amici conoscenti vicini circolanti piccole semplici regole che a mio modo di vedere poi tornano il circolo virtuoso secondo te sto male? viva la vita sto una crema vivo sorrido attestata e a panzan fuori non c'è panza è proprio un'anza panza